e no e il il mitico rambo mi raccomando cerchiamo di prendere la torre e il palaccio ma la torre non quella dell'orologio ma il palaccio capi? si ok mi raccomando scrivetele al canale buona rambo ok rambo buona 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 rambo va bene ragazzi, va bravo, dica una merda, torniamo al lobby